Se guardiamo al periodo pandemico quando tutto saliva, non era solo il nervosismo di stare rinchiusi in casa a salire, e a me succedeva spesso, ma anche il numero di broker a costi zero o quasi che offrivano le azioni frazionate come metodo di investimento. Dopo poco più di tre anni da quel fatidico marzo nefasto, beh, vale ancora la pena utilizzare questi broker? Lo vediamo in questo video. Ben tornati boys and girls. Al di là di quello che andremo a dire in questo video, l'utilizzo di massa delle azioni frazionate, a mio parere, ha cambiato notevolmente il modo di investire, perché seppure legato a tanti lati positivi e negativi che andremo a vedere in seguito, ha sicuramente il pregio di aver avvicinato molti piccoli risparmiatori al mondo degli investimenti. Ma quali sono i vantaggi e i svantaggi di usare queste azioni frazionate? E vale ancora la pena usarle? Vediamolo partendo dai vantaggi, ma prima spieghiamo per i più novizi cosa siano le azioni frazionate o frazionali, o in inglese fractional shares, ed alla fine anche perché io al momento le stia utilizzando, per cui non andare via da qui, ma rimani fino alla fine del video. Le azioni frazionate, le frazioni di azioni, si riferiscono a una porzione, o appunto una frazione, come dice il nome, di un'intera quota delle azioni di una determinata azienda o società. Invece di acquistare azioni intere, gli investitori possono andare ad acquistare e possedere frazioni di azioni che rappresentano un interesse di proprietà proporzionale nel titolo sottostante. Le frazioni di azioni sono diventate più popolari con l'ascesa delle piattaforme di investimento online e dei servizi di intermediazione che offrono appunto la possibilità di scambiare le frazioni di azioni. Ciò consente agli investitori di acquistare e vendere denominazioni minori di azioni anche se il prezzo delle azioni è molto elevate. Per fare un esempio pratico che mi sta tanto a cuore, se il prezzo di una singola azione di una società è di 1000 dollari, come lo era Google ad esempio prima dello split, periodo in cui tra l'altro io l'ho acquistata, e un investitore desidera investire 500 dollari, può acquistare metà di un'azione invece di dover acquistare un'interazione da 1000 dollari. Ciò consente a chi investe di partecipare al mercato azionario con importi di investimento inferiori e allo stesso modo di diversificare i propri portafogli tra più società, anche se i prezzi delle azioni singole sono molto elevati. Andiamo a parlare dei vantaggi però. Accessibilità Le quote frazionali consentono a chi investe di partecipare al mercato azionario con importi di investimento molto inferiori al solito. Questo apre opportunità di investimento a una più ampia gamma di individui che potrebbero ad esempio non avere il capitale per acquistare interazioni magari che sono costose o che potrebbero semplicemente non avere accesso a capitali anche delle volte non importanti, ma che abbiano difficoltà a poter creare un portafoglio che sia ben diversificato con le risorse che hanno a disposizione. Diversificazione Flessibilità Flessibilità Flessibilità